È rimasto bloccato come una palla di flori Ma gli è uscita veramente una pallina, non avevo capito Non se la frequenta dato che il suo perizoma è il pacco Eh si faccia i pacchi suoi Scatto del principe, attenzione Vada, vada Salto Che cosa su... Ehi, ehi, ehi Fiatalo, fiatalo Secondo me c'è stata della corruzione Nell'ultima competizione abbiamo scoperto l'imbroglio di Danny Lazar Il famoso evento del bottone Noi abbiamo visto che aveva due bottoni abbottonati E poi quando Maurizio Merluzzo ha ammonito il buon Murray Lui di nascosto se l'è sbottonato Non va proprio bene, non va proprio bene Anche perché abbiamo visto che vinse solo per un punto di differenza Oggi reagiamo a Olimpiadi da Gentleman 2021 Vediamo come se la cava di i nostri eroi Con un background anche nello sport e nella salute Noi cercheremo di valutare in maniera imparziale i nostri eroi Attenzione, nooo Mi dissocio completamente da questa scelta Squalificato Bombetta ragazzi Anzi, gentlemen Benvenuti a un nuovo video Ormai da 2500 anni Noi quattro gentlemen ci riuniamo ogni anno per partecipare al più grande Ragazzi da 2500 anni Quindi i ragazzi sono diventati vampiri E' per questo che si vestono così Spero di essere comunque all'altezza Qui allo stadio comunale di Est è tutto esaurito Pubblico invisibilio per questa manifestazione Cosa avete messo in palio in queste gentlemen olympics? Ma in palio c'è lo sport Questo non è assolutamente da gentleman Potrebbe essere la vostra verità Ragazzi non so perché ma Thomas Engri mi sembra sempre confuso Sembra me lo devo E' fatto, è stabilito, è scritto nella pietra Che si è dato il via alle gentlemen olympics 2021 con la prima prova In pedana ragazzi il nostro barone Lancio della bombetta Di Marenduzzo in suo abito blu molto elegante Io pensavo che si sarebbero cimentati in prove reali come quelle della scorsa edizione Chi scaglia il copricapo più lontano vince la prova Sono abituato ad essere il primo in tutto Barone Dobbiamo trovare un criterio secondo il quale valutarli in maniera equa Dobbiamo cercare secondo me una disciplina Che possa avvicinarsi il più possibile al lancio della bombetta Secondo me questa disciplina potrebbe essere tranquillamente il lancio del disco Quindi li valuteremo come se fosse il lancio del disco Si accarrezza il ciuffo C'è un biscotto C'è un biscotto Ha un biscotto sotto il cappello Mentre mastica Movimento semicircolare maschio Ragazzi il movimento che ha fatto Thomas Engri è proprio il movimento tipico del lancio del disco Io ricontrollerei il gesto tecnico Si accarrezza il ciuffo Tenete conto che comunque il disco Mi sembra sia fatto di legno esteriormente E più internamente sia comunque di acciaio Ecco quindi È sicuramente molto più pesante della bombetta Quindi magari non c'era neanche bisogno di questa torsione Lancio Sentite Danny Lazarin come se la ride Io voglio proprio vedere come se la caverà lui Medio buono diciamo Non è andata benissimo Non è andata benissimo Partiamo male con Thomas 4 metri e 27 Sono stato appesantito da un biscotto Inizio ad essere vecchio In pedana ora il nostro conte della massellanza Però vedo non indossa una bombetta Sono curioso Quindi ragazzi questa potrebbe essere giudicata come una penalità Le bombette classiche le prendevo in mano ma mi sfuggivano Erano veramente leggere e ingestibili Ho dovuto prendere Ragazzi com'è possibile che Danny Lazarin debba sempre piegare le regole al suo volere Uno può usare uno strumento diverso rispetto agli altri partecipanti C'è uno strappo quasi Mamma mia Come vi metto la Michael Jackson Ragguardevole Ragguardevole Bel lancio Bel lancio 7 metri e 14 per il nostro conte Lancio incredibile devo dire Non male Nonostante il cilindro verrà comunque penalizzato di qualcosina Ma un vantaggio ragguardevole L'arbitro è stato opportuno con questo intervento secondo me Perché Danny Lazarin cerca sempre di piegare le regole a suo piacimento L'edizione prima ha cercato di farla franca E l'ha fatta franca con il bottone che era bottonato Poi l'ha sbottonato ragazzi non ci è piaciuto Stavolta si presenta con uno strumento diverso Finalmente qualcuno lo ha ammonito togliendogli un punto Principe Il Principe prego Lix Murria ricordiamo Morri 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 Poi sfoggio un abito meraviglioso Misura il vento Bravo Perché il vento è importante Ragazzi è il primo che abbiamo visto misurare il vento Effettivamente con uno strumento così leggero potrebbe essere opportuno Attenzione Attenzione penalità Penalità E' uscito Penalità Purtroppo Tiro comunque veramente impressionante Se non fosse uscito sarebbe arrivato un po' meno lontano Però comunque avrebbe vinto lo stesso ecco Anche perché nel lancio del disco non bisogna prendere in considerazione soltanto la forza ma anche la traiettoria E diciamo che l'intenzione di azzeccare bene la traiettoria c'era Non credo sarà convalidato Voglio vedere il VAR Mi dite Non senti la parola VAR Può prendere uno Spritz? Basta Allora basta Thomas Allora abbiamo capito Abbiamo capito che Thomas Engry ha un canale sul cibo Lo sappiamo Ce lo deve ricordare ogni volta Non ora Barone dopo La comunicazione purtroppo il nostro principe è squalificato per superamento della soglia di lancio E me ne scuso Le penalità sono penalità E io di falli me ne intendo Burri Ora duca del merduzzo in pedana Con questo abito blu cobalto Assaggia Assaggia Ah bravo Bel metodo Questo metodo importante derivato appunto dai duchi Mamma mia Sì Sì Una mascolinità Dubbia se posso permettermi perché vedo delle movenze Ho preparato il mio metodo Andando a studiare su una piccola isola vicino a Okinawa In Giappone Seguendo le orme del maestro giapponese Akkatsu Attenzione movimento fluido lo vedo Maurizio Merluzzo si è allenato con il suo maestro Akkatsu Speriamo che l'allenamento adesso dia i suoi frutti dove conta di più Mamma mia Raga Eccezionale 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 Diciotto metri Diciotto metri Diciotto metri E vince la nostra prima prova Il nostro duca Bomba ragazzi Bombetta gentleman Assolutamente incredibile ragazzi Che emozioni subito Ok ragazzi cominciamo bene Abbiamo visto che duca del merluzzo Si distingue da subito rispetto agli altri concorrenti Nell'ultima edizione noi sappiamo che Maurizio non ha partecipato Perché ha fatto l'arbitro Era comunque un'incognita perché non lo abbiamo mai visto all'opera a livello atletico Nelle olimpiadi da gentleman Io penso che i due più forti attualmente in questa competizione siano Maurizio Merluzzo E Danny Lazzarin L'abbiamo visto all'opera Danny Lazzarin Ha vinto la scorsa edizione Seppur imbrogliando Ci siamo resi conto comunque che è veramente un atleta straordinario Vorrei vedere qualcosa di più del conte della massellanza Prima di espormi La corsa ad ostacoli con la tazzina del tè Il barone di Marenduzzo lo vedo un attimino costipato poverino Ma sono certo che si rifarà Vince la gara naturalmente Chi arriva per primo e ha la tazzina più piena Parte subito con gran Allora ragazzi io penso che questa competizione sia da valutare come se fosse una marcia Devono sempre stare con almeno un piede attaccato a terra Vi rendete conto come manchi A differenza della corsa Manchi la fase di volo Io direi di valutarli con questo criterio Eh però c'è l'ostacolo Vabbè dai ragazzi dai dai Attenzione però subito Ostacolo impervio Stolto saluti Per me non è regolare È partita persa in partenza Oh ragazzi non è giusto però Che è successo Attenzione che il barone quasi cade Subisco Barcollo Ma non mollo No sta correndo No 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 Thomas Henry stava correndo palesemente Basta 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 Dritto davanti a me il mio obiettivo E non mi sono fatto distrarre dal mio adiacente avversario Siamo al fotofinish ragazzi È scatto del principe Attenzione Va Taglia il fotofinish E si aggiudica la seconda prova Il principe di X moria Ragazzi che emozioni Questa gara consisteva nell'arrivare prima Senza però versare alcuna goccia di tè Potrebbe non aver vinto come pensiamo Ultimo e con sfregio Direi si allontani pure Ha un leggerissimo vedo Vedo Una sporchevolezza Sulla ceramica austriaca Io non ho versato ne manco una goccia di tè Mentre il principe ha fatto una cosa alla rocca Diamo un'ammunizione Quindi facciamo passare Maurizio Al primo posto Anche in questa gara Nonostante sia arrivato secondo In fatto di velocità Ecco Spetta all'arbitro Che però non inficia in questo caso la vittoria Che viene aggidicata e confermata Per il principe di X moria Un fisico così esile e gracile Non pensavo neanche fosse in grado di sorreggere la tazzina C'è una grande emozione per me che sono un rivivere Quell'adrenalina che vivevo in gioventù La legge del più forte vale anche tra noi gentiluomini Quella gara Ho visto una diseguaglianza sull'unità Ma dove? Di altezza anche questa volta Si allontani Ragazzi dobbiamo dare ragione qui Quell'ostacolo era fin troppo alto E' stato sfortunato a capitare in quella parte della pista Oppure non è stato sfortunato ed è stato tutto organizzato Non lo so Il lancio della valigetta Si tratterà di scagliare la valigetta il più lontano possibile Prima abbiamo visto il lancio della bombetta Ecco e lo abbiamo paragonato al lancio del disco Se quello era il lancio del disco Io dico che questo debba essere paragonato al getto del peso Ragazzi non si chiama lancio del peso Si chiama getto del peso Si fa confusione di solito La differenza sta nel fatto che durante il lancio Per esempio il lancio del disco L'arto rimane teso Mentre nel getto del peso C'è una flessione Quindi praticamente facciamo questo movimento Nel lancio del disco questo non c'è Vada Vada Prego barone Non saluta al barone Il barone è il peso Lui vive in un altro pianeta Anzi un altro mondo In sotto sopra Perde un po' di eleganza Abbiamo visto che nelle olimpiadi da gentleman Si prende in considerazione anche l'eleganza Ecco ragazzi Mettere la camicia di fuori in questo modo Sicuramente Se io fossi l'arbitro Toglierei un punto per questo No no Attenzione però esce qualcosa dalla valigetta Il vecchio vizietto del barone ragazzi La valigetta della baronessa madre Preparata giusto al mattino da mia madre Ed era effettivamente low carbs C'erano pochi carboidrati Forse è questo che mi ha fatto sparare la valigetta A soli due metri di distanza Non si vergogna giustamente È caduto a terra Allora ragazzi La regola dei 4 dei 5 secondi Non è vera I batteri Non è che aspettano Che passino 5 secondi Prima di saltare sopra Al cibo che è caduto a terra Ragazzi Se vi cade qualcosa a terra Non mangiatelo E non serve neanche soffiarlo Non mangiatelo E basta Non esiste nessuna regola Dei 5 secondi Accipicchia Già lo conoscevo So i suoi gusti quindi Attenzione Il principe si è slacciato È tonico Movimento classico Sono 16 metri e 76 Per il principe Che si mette in seconda posizione La valigetta sembra contenere qualcosa di importante Controlla se è tutto a posto No 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 Danny Lazarin cerca di corrompere l'arbitro No 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 Eccezionale Non ho mai visto una cosa del genere Ragazzi Il nostro conte Si aggiudica Per manifesta superiorità Ho visto passare qualcosa di mano in mano Tutti a casa Tutti a casa Le olimpiadi della scorsa volta Erano più serie Ecco abbiamo potuto diciamo Parlare un po' di più Dei gesti tecnici Abbiamo potuto apprezzare di più Le doti atletiche Dei nostri eroi Mi manca Mi manca La vera competizione Devo dire la verità Secondo me c'è stata Della corruzione Regista Quando a tempo Mi insegno a scrivere Ha saltato la T Qualcosa Ah Mi è stato tramando Siamo in onda In lungo con ombrello I nostri gentlemen Sono già stati dotati Dei loro attrezzi Lo ha detto anche lui Che si tratta di un salto in lungo Quindi Penso che I nostri eroi Si debbano Valutare Sulla base delle regole Ufficiali Del salto in lungo Quindi noi ragazzi Sappiamo che Si valuta Il punto raggiunto Da qualunque parte Dell'atleta Non importa che Atterri col braccio Con la spalla Con il piede Duca del merluzzo In posizione Prende la traiettoria Miglio Grandissimo Movimento di polso Gem Piner Di Windembrella Mamma mia Che Attenzione Che classe Non si tratta Di un salto Ma che gara è ragazzi Scusate Cato al barone Che cosa fa Attenzione Delle pastiglie Un po' incerte Il mio passato È a Broadway Ma il suo È su altre strade Ma veramente Il suo era brodo di pesce Giustamente Prende a schiaffi Pulisce la calzatura Le punite Attenzione Un metro e quarantanove Uh Mi accingo Attenzione La schiena Sciatica forse Allora Danny Se hai bisogno Io sono qui Infortunio in pedana Salto Il fatto che Le sia uscita La camicia Veramente disdicevole In una prova Tra gentiluomini Viene decurtato Di dieci Ragazzi Stavolta Cosa viene Viene decurtato Cosa Viene decurtato Di dieci centimetri Quindi passa In seconda No ragazzi No ragazzi No ragazzi Vai Oddio È uscito tutto Gesù santissimo No ragazzi Ma ha veramente Le chiappette di fuori Davvero No no Non lo accetto Ed è rimasto così Non lo accetto Spero È rimasto bloccato Con una palla di fuori No va bene No Ma gli è uscita Veramente una pallina Non avevo capito Questa mattina Non avevo avuto modo Di trovare le mie mudande E ho usato Quelle della donzella Di ieri sera Donzella frequenta Dato che il suo prinsomma È il pacco Eh si fa I pacchi suoi Non lo voglio rivedere Molto a breve Ecco Sono un po' Combattuto Scusa Chiedo scusa Può ripeterlo Con enfasi ancora Il momento dei Perdenti Che cosa Su Ehi Ehi Che cosa Oh Piatalo Oddio No ragazzi Piatalo Non era Non l'aveva detto Ciccio Gamer Quando successe Quella cosa Molto spiacevole Ecco La situazione Del cornetto Alla nutella Diciamo Ragazzi Io mi sono divertito Con queste olimpiadi Anche perché Diciamo Era sicuramente Una competizione Un po' Più scherzosa Soprattutto Se ripensiamo A quella Della scorsa edizione Che invece È stata una competizione Vera E propria Per la prossima volta Consiglierei loro Una vera competizione Ragazzi Un bacio Se il video vi è piaciuto Considerate di mettere Un mi piace E magari di seguirmi Ragazzi Un bacione Ciao a tutti